Ascoltiamo attentamente la parola per qualche minuto Numeri 12 Dal verso 1 Sra. dei dravaggio te colo via jaharone atti miriam no sadia tanto me bahara e us akhia miriam galna solo hallelujah così no è to per anghi tadi ho vada croz on out e per chi ha atti o chali a ghiarja da baddara tambu de uto hot ghiarh uth ghiarh taveco miriam kodan a te barf vangu ho gai ta haroon ne miriam no dita te vicko o kodan ho gai si o pranth haroon ne musa no a kya hai mire swami ji e paap sa deo te na lao juh asa murg tainal ki ta a te jesson asi papi hoi ha usnu murdhe jihana hoon dhe jida sriir juman dru hi adda galia hoya hove ta musa ne yehova ghe dhuhai dhati ke hai parmesur meri minnat hai onu changa karta yehova ni musa no a kya jode pita ni nira ode mo utte hi thukya honda ta ki onu sata dhna tik lajna ondi o sata dhna tik dhre to bandh bahar bandh rahe ta usde magro fayr andhra away so miriam satna dhna tik dhre to bahar bandh rahe ate parja ne odh under or tik kooch na ki ta isde magro parja ane hase rood to kooch ki ta te pradhan di ujad parandi ujad which derelai sari kai ameen ameen apainu sir punjabi cheparangie hallelujah e che christian person de gona a jasi tori una tegala karangie sari kia hallelujah hallelujah oggi parleremo dalle qualità di una persona cristiana e che christian person jera saccia christiana o odina quei madavi kari teo eni dua karuga che pragui da madavi quando un vero cristiano subisce un torto non pregherà mai dicendo dio ricambia il loro favore che mi hanno fatto e che saccia christian joe musa nikita odda karega musa dekla bole no mani ade judo per missione corda karta musa hiu na li dua karia faranno come ha fatto musè nonostante abbiano sparlato di lui lui ha fatto da intercessione per loro pregando per loro oggi oggi ascoltiamo attentamente la parola le qualità di un cristiano oggi sarete benedetti dovete lasciare che questa parola vi entri nello spirito un vero cristiano non si rallegra quando chi gli ha fatto del male subisce del male hallelujah davide dice signore le persone per cui ho fatto digiuno loro si sono alzate contro di me musa musa di khilaf miriam o di sa ki per ne bole a kodkada o di khilaf ed kiti permishu leno kodan karta kod 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 musa un vero cristiano non può dire arriverà il tempo anche per te poi vedremo guardatemi tutti un vero cristiano non può dire fa niente quando avrò l'occasione vedremo secondo voi è questa la vera qualità quando david ha avuto l'occasione la colta o no di uccidere Saulo Daudne Maria un vero cristiano non ricambia il torto con un altro torto ma se subiscono il torto quello che gli hanno fatto male lui andrà a chiedere come stanno pregherà per loro aiuterà queste persone e non dirà vedi cos'è successo loro che mi hanno fatto del torto un vero cristiano non fa così perché Miriam è diventata lebrosa solo perché ha borbottato contro Mosè che tu si lo beso di Mosè e che avrei che avrei di cano code ho che avete in mei lettro nella bibbia che mi ha detto vedi cosa ha fatto Giuda con me vedi cosa è successo a lui l'ha mai detto qualsiasi vera persona in Cristo se subisce un torto da qualcuno non può pregare dicendo anche lui subisca un torto si noi preghiamo col fuoco ma contro gli spiriti maligni contro le magie contro quegli spiriti che hanno imbottigliato le persone per le magie nel cristianesimo la differenza tra gli altri che nessuno può venire da un pastore chiedendogli prega perché subisca un torto questa persona ma ci sono tanti posti in cui le persone vanno solamente per fare questo Nel cristianesimo non è mai stato che uno mi faccia questo allora pregherò la prima qualità quando un cristiano vede qualcuno che gli ha fatto torto subire torto non è contento di questo hallelujah hallelujah Bible ci l'icchia Luca di Ingeilo da ecca di hai sarei kho liè proviamo Luca capitolo uno Sare nevacchino nel vincolo c'è addono si elizabet odono per misura di agghi termini san arprabu de sare hokema atti beta tiner doc chalde san una di ola denasi chiunque elizabeth band si ardo ne vedi umar de san atti è un hoia amin amin a seconda qualità di un cristiano e quando gli succede qualcosa non gli succede qualcosa non borbotta mai contro Dio amin non borbotta mai contro Dio c'è scritto che gli israeliti perché non avevano acqua borbottavano e hanno rattristato Dio per questo pur di non fare questa fine eravamo meglio quando eravamo in Egitto e hanno rattristato e fatto arrabbiare Dio un vero cristiano non borbotterà se non ha attenuto qualcosa Zachariah e Elisabeth una dei vedi umar di ho gassi e la biblia dice nirdoce permessor di arramati o di hukma te chalde si na che kudkodon desi Zachariah e Elisabetta erano avanzati d'età ma erano entrambi reprensibili davanti a Dio e non borbottavano ma erano comunque emozionati per fare il servizio di Dio oggi ci sono persone che quando non ottengono qualcosa non sono più emozionati per il lavoro di Dio quando non ottengono quello che vogliono dentro di loro muore la voglia di fare qualcosa per Dio di essere nelle vie del Signore ma Zachariah e Elisabeth pur essendo anziani erano irreprensibili sulle vie di Dio e loro erano emozionati a fare il servizio nonostante Elisabetta fosse sterile e anziana è molto facile camminare nel cristianesimo quando abbiamo la parola Rema davanti a noi quando non trovate nulla nessun ottenimento allora guardate verso il cielo e aspettate il giorno in cui andrete avrete la voglia di ricominciare in Dio sarei kai amen sab kai amen hallelujah un vero cristiano non guardate contro Dio hallelujah che Musa ha guardato che Jacariah e Elisabeth e Zaccariah e Elisabetta lo hanno fatto e E' arrivato l'angelo e ha detto ottenerete otterrete Giovanni che raddrizzerà le vie del Signore quel figlio che è già dal grembo aveva lo Spirito Santo oggi e quindi il cristianesimo è quella strada dove chi deve nuotare annega, chi deve annegare riesce a nuotare, alleluia, 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 ci sono tante testimonianze nella mia vita l'ultima di domenica, avevo il gilet così sopra domenica, entrambe le tasche avevano i soldi ma avevo preparato solo una parte di questi soldi per l'offerta e quando è arrivato il momento dell'offerta ho chiuso gli occhi, ho visto l'amore di Dio e ho detto non posso tenermeli perché vedo il suo amore per me davanti al suo amore io non posso dargli veramente nulla e ho dato quell'offerta da entrambe le mie tasche è venuta una persona che non viene spesso in chiesa, hanno seminato per me e mia moglie e dopo di quell'offerta non avevo più nulla il cristianesimo è dare il proprio tutto non solo i soldi qualche mese fa si sono sposati i nostri fratelli e queste famiglie hanno sempre seminato le offerte per me e per il lavoro di Dio e quando c'è stato il matrimonio ho visto la mano di Dio che ha mandato gli aiutanti divini in tutte le loro aree e in tutte le aree stavano avendo il meglio quindi un vero cristiano non borbotta mai davanti a Dio e anche Dio si ricorda di loro e li benedice e ogni cosa si riunisce per far creare il bene per lui non borbotterà perché dirà anche se qualcuno parla di me Dio ha dei buoni piani per me se mi manca qualcosa c'è qualcosa che non va bene e fa niente Dio mi sta insegnando io non devo borbottare non posso dire a Dio la tua parola dice così allora perché non l'hai fatto perché non l'hai fatto con me Dio è contento di loro e di quelli che non borbottano la moglie di Giobbe gli ha detto lamentati e muori rinuncia Dio e muori e lui ha detto no non possiamo sempre ricevere il bene e non aspettarci il male un vero cristiano non borbotta mai la terza qualità è un po' più pesante nella vita di un cristiano nella vita di un vero credente è un cristiano che perdona nonostante qualcuno non gli chieda perdono non si aspettarà che qualcuno venga a chiedere scusa ma perdonera da solo Gesù quando gli ha chiesto allo Spirito Santo portami là adesso chiediamo oggi allo Spirito Santo portami in quel posto quando era sulla croce chi gli ha chiesto perdono eppure diceva padre perdonali perché non sanno cosa stanno facendo un vero cristiano non si aspetta che qualcuno gli chieda scusa ma perdona un vero cristiano quando si inginocchia davanti a Dio non ha più bisogno che qualcuno gli chieda scusa ma perdona quando Stefano è stato lapidato lui diceva Dio non dare loro le loro colpe un vero cristiano non vuole vendetta un vero cristiano non si aspetta le scuse di qualcuno perché se amiamo perdoniamo solamente quelli che ci amano ci perdonano cosa facciamo in più anche gli altri lo fanno allora cosa state facendo in più rispetto alla parola il vero cristiano è quello che anche quando soffre non aspetta che qualcuno chieda scusa ma va davanti a Dio e si fa perdonare queste sono le qualità di un vero cristiano io non so a che punto siete con queste qualità ma queste sono le qualità vere di un cristiano quanti stanno ricevendo oggi oggi ci fermiamo a queste qualità non dovete mai dimenticarle un vero cristiano non è mai contento quando vede del male addosso a qualcuno non ne chiede che gli venga del male un vero cristiano non borbotta e un vero cristiano non aspetta che qualcuno chieda scusa hallelujah lui perdona due domeniche fa abbiamo imparato cosa vuol dire perdonare realmente vuol dire eliminare dentro di noi quella cosa il vero perdono è cancellare questa cosa prima di ricevere questa rivelazione io pensavo di aver perdonato ma mi ricordavo di queste cose ma il vero perdono è quando dimentichiamo e cancelliamo queste cose dal cuore dalla bocca e dalla mente e chiunque sia ad incitarvi il mondo o il diavolo gli dovete rispondere ciò che è finito è finito e anche Dio ha cancellato i miei peccati e non se li ricorda quindi io farò lo stesso a volte ci ricordiamo queste cose per gli altri ma non per il proprio marito per la propria moglie dovete perdonare anche loro allo stesso modo dimenticare ogni quella cosa che vi ha fatto male nel passato le cose passate sono passate sono finite perché quelli che sono in cristo sono nuove creazioni guarda tutto è nuovo che sia per i vostri coni o per gli altri dovete ricordare che tutto è passato tutto è finito e tutto è nuovo ora alleluia